Serena Autieri è apparsa di recente alla trasmissione tv condotta da Serena Bortone, ossia Oggi è un altro giorno, e me non da sua raiuno, e si è commossa e andata letteralmente in lacrime ricordando la grande Raffaella Carrà, scomparsa poco tempo fa. La stessa Serena Autieri avrebbe detto, io sono cresciuta con lei, sul suo divano ogni volta io mi commuovo e non poco. Aveva un carisma a 360 gradi in tutto e per tutto, era il mio grande punto di riferimento. E poi parla dell'amato marito, un hot manager, e raccolta un retroscena inedito. Noi li chiamo per il cibo, io ho la socia di Antonella, molto bravo in cucina, mio marito ha un'aspettata sulla cucina che è molto alta, io però mi arrangio. Anche mia figlia ci metto il cuore nelle cose che faccio, allora prestavo sempre di più la cucina dell'amata nonna, e per questo motivo noi li chiamo di tanto in tanto per la cucina. Insomma, una Serena Autieri triste, tristissima per quanto riguarda la morte di Raffaella Carrà, la donna a cui deve tutto, una donna con cui è cresciuta la stessa Serena Autieri, che non ripetica mai più nel suo cuore, la tiene stretta nel suo cuore. Ma al tempo stesso parla però di un fatto inedito, e ecco che in quel momento arriva un verso l'isola parte di Serena Autieri. Ma fino a poco tempo prima, ricordando Raffaella Carrà, Serena Autieri vai in lacrime, piangi amaramente. Il video termina qua, ci sono l'arriano con la rotazione italiana.